ben trovati a tutti facendo la dovuta eccezione dell'europa dell'est interessata al momento da una saccatura quindi da una zona di bassa pressione con pioggia aria fresca tutto il comparto euro atlantico mediterrano partendo addirittura dal nord america fino a noi è sovrastato da un unico abbraccio anticiclonico che vede fuse tra loro la componente delle azzorre e quella nord africana questo persistente sollevamento in blocco della fascia anticiclonica subetropicale a discapito di quella temperata che dovrebbe invece occupare le nostre latitudini è anch'essa una conseguenza dell'aumento medio della temperatura terrestre che determina proprio una dilatazione delle fasce climatiche calde a spese di quelle fresche sempre più relegate verso nord verso i poli all'atto pratico questo significa per l'italia assistere anche nei prossimi giorni a persistenti condizioni di tempo soleggiato e caldo caldo che tra l'altro nella seconda parte della settimana tornerà a farci soffrire da prima al nord e al centro poi dal weekend forse anche al sud seppur in maniera un po più edulcorata cosa determinerà ancora questa ennesima visita da parte delle correnti nord africane tutto nascerà dalla presenza di una piccola goccia di aria fresca in quota isolatasi all'argo del portogallo che farà d'ago della bilancia interrompendo il flusso atlantico da ovest in favore di correnti continentali da sud appunto dal sara le previsioni in dettaglio confermano tutto questo mercoledì 13 luglio sole praticamente ovunque nel pomeriggio qualche banco nuvoloso in più si potrà avere lungo le zone alpine ma anche in calabria in ogni caso senza conseguenza livello di precipitazioni i venti saranno deboli limitati ai cicli delle brezze i mari complessivamente tranquille le temperature senza variazioni apprezzabili con clima nel complesso più gradevole e ventilato al sud rispetto a quanto avverrà sul resto dell'italia giovedì 14 luglio lieve instabilità di passaggio sulle alpi orientali per il resto soleggiato con modesti addensamenti cumuliformi pomerdiani sulle alpi anche sulla penino settentrionale mari eventi rimangono tranquilli a parte qualche folate di maestrale possibile sulla puglia le temperature invece inizieranno a salire anche se moderatamente a partire dal centro e dal nord infine la tendenza successiva con le alpi orientali che rimarranno soggette ad una certa instabilità passeggeri che potrà sfociare anche in qualche breve rovescio temporale pomeridiano il sole il caldo domineranno invece il resto dell'italia con valori che saliranno anche vistosamente al nord ovest soggetto probabilmente anche ad una possibile ricaduta favonica dalle alpi per il momento non c'è altro da aggiungere grazie per averci seguito se volete rimanere sempre aggiornati sul meteo dei prossimi giorni iscrivetevi al canale da luca angelini tutto vi attendo al prossimo video iscrivetevi al canale